Presidente Massiglio, Festival d'Annunziano, quarta edizione a Pescara dal 3 al 11 settembre, grossi eventi, eventi che possono aumentare, sicuramente aumenteranno l'appettibilità turistica di questo territorio. È solo la quarta edizione, però sembra già la quarantesima, sembra già che il Festival d'Annunziano ci sia sempre stato a Pescara e non potremmo più farne almeno. Io spero che anche nel futuro, anche le prossime amministrazioni ne capiscano l'utilità e l'importanza. Abbiamo recuperato il personaggio d'Annunzio con una profonda, seria analisi storica, culturale, condotta sempre sotto la supervisione della direzione artistica e culturale di Giordano Bruno Guerri, che è la persona più competente al mondo sulla figura di D'Annunzio. Portiamo artisti di livello nazionale e internazionale, facciamo tante cose, dal puro intrattenimento allo sport fino alla cultura più profonda fatta di musica colta, fatta di convegni, presentazioni di libri, teatro impegnato e così via. È un fattore importante anche di attrattività del territorio. Di fatto con il Festival d'Annunziano si allunga la stagione turistica, almeno qui a Pescara fino a metà settembre. L'assessore Damario ci ha già annunciato anche che con il Ministro del Turismo Caravaglia c'è un'intesa in corso che speriamo di poter formalizzare a breve per fare già da questa edizione un ulteriore ampliamento del programma coinvolgendo altri luoghi d'Annunziani d'Abruzzo, perché D'Annunzio non è solo patrimonio di Pescara. Insomma in questa maniera noi stiamo davvero facendo crescere la cultura e il turismo nel nostro territorio, nella nostra regione.